Salve a tutti, in questa video lezione cercherò di fornire un'introduzione al pensiero di Nietzsche. Prima di tutto è necessaria questa introduzione? In effetti è necessaria, secondo me, perché Nietzsche costisce un pensatore molto peculiare. Non solo per la sua complessità, ci sono tanti altri pensatori complessi, quanto per il fatto che la sua ricerca è molto assistematica e non conduce a un pensiero organizzato, al cosiddetto sistema filosofico, quindi proprio per questo è molto difficile inquadrarla. In secondo luogo perché Nietzsche è un filosofo che ha inciso profondamente sulla storia della filosofia e della cultura del Novecento. Si pensi a quanti sono gli spunti che risalgono a Nietzsche, dalla psicanalisi alla teologia, dalla ermeneutica alla filosofia dei Degger, dalla letteratura. Si pensi all'importanza che il termine nichilismo ha nella letteratura, Dostoievski, oppure al termine superuomo, all'importanza che ha nella letteratura di D'Annunzio, per capire come il panorama del Novecento sarebbe diverso senza Nietzsche. Tanto che si potrebbe dire che Nietzsche è un pensatore del Novecento, benché la sua vita sia tutta compresa nel diciottesimo secolo e più un pensatore del ventesimo. Nietzsche infatti nasce nel 1844, muore nel 1900. E' importante sottolineare come la vita attiva di Nietzsche, come ricercatore, scrittore, filosofo, professore universitario, dura neanche vent'anni. Infatti lui scrive nel 71 e pubblica nel 72 la sua prima opera importante, La nascita della tragedia. Nel 1899 è colto da un attacco di follia a Torino, da cui non si riprenderà mai più, morirà 11 anni dopo, a Weimar, assistito prima dalla madre e poi dalla sorella, conducendo una vita pressoché vegetativa. E in tutti questi anni la sua opera non ha, possiamo dire, quasi nessuna influenza, quasi nessun riscontro nel dibattito culturale del tempo. Era, come lui stesso soleva dire, un inattuale, un autore inattuale. Bene, questa premessa verbosa, ho intitolato questa introduzione Filosofare a colpi di martello, che è il titolo di una delle ultime opere di Nietzsche, che dà una chiave di lettura, tra le tante possibili, alla sua ricerca filosofica e culturale e filologica. E cioè è l'opera di demolizione che Nietzsche si propone di compiere e che deve però culminare nella proposizione di qualcosa di nuovo, di una nuova epoca dell'uomo, dell'umanità, della civiltà. La critica radicale, non solo alla filosofia e alla cultura occidentale, ma alla civiltà stessa cui l'Occidente ha dato luogo, vista da Nietzsche come un processo di decadenza, è una delle matrici principali della ricerca di Nietzsche. Cerchiamo quindi di definire il contesto linguistico, comunicativo, filosofico, problematico nel quale si muove Nietzsche. Per comprendere la consapevolezza che lui aveva della sua opera e della sua missione, perché per lui si tratta proprio di una missione che ha i toni della profezia, leggo questo passo di Eceomo, una sorta di autobiografia. Conosco la mia sorte, un giorno sarà legato al mio nome il ricordo di qualcosa di enorme, una crisi, quale mai si era vista sulla Terra, la più profonda collisione della coscienza, una decisione evocata contro tutto ciò che finora è stato creduto, preteso, consacrato. Io non sono un uomo, io sono dinamite, io faccio esplodere qualcosa, ciò che Nietzsche fa esplodere, ciò che Nietzsche demolisce, è la stessa civiltà occidentale e la sua interezza. Scuola del sospetto, intitolato questa prima rappresentazione grafica, in quanto che Nietzsche invita a sospettare. La sua strategia, se così la vogliamo chiamare, è infatti sin dall'inizio una strategia che mira al pensiero critico, è alla demistificazione, intendendo per demistificazione l'operazione contraria al mistificare, cioè al falsificare, al creare qualcosa di ingannevole e menzognero. Quindi la filosofia del sospetto è quella filosofia che opera per togliere la maschera di verità di cui si ammantano gli inganni su cui è costruita la civiltà occidentale, ricordiamo non la sola filosofia, ma l'intera civiltà occidentale. Perciò anche il rifiuto, accompagnato dal sentimento di profondo disprezzo che Nietzsche prova per tutta la storia della civiltà occidentale. Perché questo? Perché la storia della civiltà occidentale è la storia di una lunga menzogna, anzi di lunghe menzogne, menzogne millenarie, le chiama Nietzsche. E queste menzogne millenarie sono legate al fatto che la civiltà occidentale, come vedremo a partire da Socrate, dalla filosofia razionalista che con Socrate e Platone si impone, eliminando il lato oscuro dell'esistenza, porta alla creazione di valori, il bene, il vero, il bello, valori che sono posti come assoluti, cioè come aventi un'esistenza oggettiva che trascende l'uomo, in realtà sono creazioni umane, ma l'uomo le pone in una sorta di processo di proiezione e alienazione, come entità assolute che presiedono a guidare la sua esistenza. Perché l'uomo crea queste menzogne millenarie? Perché l'uomo occidentale crea queste menzogne millenarie? Qui agisce la filosofia di Schopenhauer per sopportare la mancanza di senso dell'esistenza. L'esistenza danza sui piedi del caos, dice Nietzsche. Cioè l'esistenza è del tutto priva di senso. Da qui anche la radice del nichilismo, dice Nietzsche. E' il nulla quella che è l'esperienza di senso, paradossalmente parlando, che si prova qualora si miri appunto a esplicitare un senso dell'esistenza. Semplicemente questa esistenza non ha un senso. Ed ecco allora queste menzogne per dare un senso all'esistenza, rendere sopportabile la vita, che altrimenti sarebbe un'esperienza disperata, cioè priva di qualsiasi speranza. Quindi l'obiettivo è nascondere quella che è la tragicità, l'irrazionalità costitutiva dell'esistenza. Costitutiva vuol dire che non posso togliere questa irrazionalità senza con ciò stesso togliere la stessa esistenza. L'esistenza è fatta di irrazionalità. Ed ecco quindi la strategia niciana che mira a demitizzare la dove sono i miti e i grandi tabù dell'umanità occidentale, il mondo vero, la bellezza, Dio fondamentalmente. ecco che interviene la demistificazione, che è prima di tutto demitizzazione, eliminare i miti, e togliere quell'aura di sacralità che fa di questi miti dei fetici, degli idoli, di fronte a cui l'uomo occidentale si inchina. Quindi mostrare fondamentalmente la falsità di quei valori. Ed ecco il senso del filosofare a colpi di martello, del carattere demolitorio che ha la filosofia di dice. E questo è anche il senso del sospettare. Non prendere nulla per vero, quindi dubitare di tutto, ma mostrare soprattutto quali siano le radici storiche, genealogiche di questi valori, in modo da far sì che non sia più possibile assumerli come entità trascendenti a cui subordinare l'esistenza umana. Ed ecco qui un altro passo di inizio in cui è esplicito questo intento. Tratto da umano o troppo umano, i miei scritti sono stati chiamati una scuola di sospetto, e ancor più di disprezzo, per fortuna anche di coraggio. In realtà io stesso non credo che alcuno mai abbia scrutato il mondo con un sospetto ugualmente profondo. Bene, chiarito quest'aspetto della scuola del sospetto, vediamo quest'altra rappresentazione grafica in che senso la filosofia di dice si può anche vedere come una sorta di percorsi che attraversano quei territori che sono proibiti. Proprio perché è il suo scopo rivelare la falsità dei valori assoluti, valori che sono tali da millennia che fondamentalmente si riassumono. Nella metafisica e nel cristianesimo si tratta di entrare in un territorio proibito, si tratta di attraversarlo e di percorrerlo, per desacralizzarlo e dimitizzarlo, dicevamo. Infatti la metafisica e il cristianesimo sono ciò che dà senso all'esistenza dell'uomo occidentale. La metafisica socratica è soprattutto platonica con il suo dualismo, cioè con la contrapposizione tra la vita terrena, priva di senso, vista come una polarità negativa, e la polarità positiva, quella al di là, quel mondo delle idee, quelli per Uranos, in cui invece avrebbe sede la perfezione del logos che darebbe un senso anche all'esistenza terrena. E il cristianesimo, che altro non è che la volgarizzazione del platonismo, una sorta di metafisica per il popolo, che ha lo stesso scopo e che si basa sulla stessa logica. La vita terrena, vista come costitutivamente negativa, è vista come priva di valore rispetto a quella che è il senso ultimo dell'esistenza, che sta in un al di là che trascende la vita terrena. Ebbene, in questo modo, l'uomo occidentale ha recuperato un senso ed è riuscito, come dire, a far fronte all'erizionalità dell'esistenza. Però tutto questo è stato pagato. Ed è stato pagato in che modo? Assolutizzando alcuni degli aspetti costitutivi della natura umana, la razionalità, da Socrate in poi, ed eliminando gli altri. Cioè, eliminando l'istinto, eliminando la forza vitale, eliminando quella che potremmo definire la sfera emotiva, sentimentale, passionale. E tutto ciò ha creato un tipo di uomo, un tipo di uomo che è un uomo represso, che è un uomo, dice Nietzsche, servile, l'uomo cristiano. L'uomo cristiano che non è capace di vivere autonomamente, ma che è capace soltanto di subordinarsi all'io devo che gli impone la sua divinità, cioè a quei valori assoluti in cui crede e a cui obbedisce. Ma quei valori assoluti sono fondati su che cosa? Sul dire di no alla vita, dove per dire di no alla vita, Nietzsche intende negare la vita terrena, togliere qualsiasi valore alla vita terrena. Paolo di Tarso, che Nietzsche odia profondamente, è il tipo di cristianesimo a cui Nietzsche guarda. Paolo di Tarso che dice l'uomo carnale deve morire perché viva l'uomo spirituale. E quindi la carne, il corpo, la terra, questa dimensione dell'esistenza umana, che per Nietzsche è l'unica dimensione dell'esistenza umana, devono essere cancellate. In questo senso l'uomo cristiano è un nichilista, o il cristianesimo, la metafisica del cristianesimo, portano al nichilismo e alla negazione dell'esistenza. Se si vuole però cercare un filo conduttore nel percorso di ricerca di Nietzsche, occorre non limitarsi a questo aspetto di critica negativa, poiché in realtà l'intento di Nietzsche è quello di inaugurare una nuova epoca. Nietzsche non si sente solo filosofo, si sente anche profeta, si sente anche fondatore di un nuovo tipo di uomo. Anzi, egli definisce a se stesso come il lieto messaggero. Lieto messaggero di che cosa? Di un nuovo modo di essere dell'uomo, di un uomo nuovo. Questo uomo nuovo è Liebermensch. Che cos'è Liebermensch? Liebermensch non è il superuomo, come appare raffigurato qui, una sorta di superman razzialmente definito, come sarà poi importato nell'ideologia nazista la figura, dicevo, di questo superuomo. Ma Liebermensch, tradotto come oltre uomo, per evitare questo fraintendimento, è l'uomo che è capace di dire di sì alla vita. Non è poco, perché? Perché dire di sì alla vita significa dire di sì alla mancanza di senso dell'esistenza. E questo, l'uomo vecchio, l'ultimo uomo, come altro ve lo chiama Nietzsche, nello così parlo Zaratustra, cioè l'uomo cristiano, non è capace di farlo. Non è capace di farlo, perché non può vivere un'esistenza senza i valori assoluti che diano ad essa un senso. E infatti, Nietzsche, in ecce homo, dal titolo stesso si capisce come Nietzsche è presente in se stesso, in questa autobiografia, come il portatore o l'annunciatore di un nuovo Vangelo, di un nuovo annuncio. Io vengo a contraddire come mai si è contraddetto e non di meno sono l'opposto di uno spirito negatore. Io sono un lieto messaggero. Quale mai si è visto? Addirittura conclude Solo a partire da me ci sono di nuovo speranze. Cioè, solo a partire dal suo annuncio l'umanità può riscattarsi dal nichilismo. Ho detto in termini religiosi solo a partire dall'annuncio niciano è possibile una redenzione, è possibile redimere l'uomo dal nulla. Dopo aver cercato di delineare una possibile lettura del percorso complessivo della ricerca filosofica di Nietzsche occupiamoci di quello che potremmo definire il linguaggio, il metodo del suo filosofare. Cosa intendo dire? Intendo dire che in Nietzsche la scrittura e il modo di affrontare questa scrittura, cioè la lettura del testo niciano, sono piuttosto complessi, ma non possono assolutamente essere trattati separatamente dai contenuti del pensiero niciano, o per meglio dire la forma fa tutt'uno col contenuto in Nietzsche. E quindi il tentativo di Nietzsche è di trovare nuove modalità espressive, cioè il tentativo di creare una nuova forma di comunicazione filosofica in cui abbiamo spunti letterari, spunti poetici, in cui abbiamo, ho detto in poche parole, una scrittura poligrafa, cioè che si avvale di stili differenti, di generi differenti, li mescola insieme, li alterna, sono fondamentali per capire il suo pensiero. Perché? Perché Nietzsche sta cercando di andare al di là del logos, cioè al di là di quella che è la tradizionale logica del linguaggio filosofico, incentrata sul logos, sul pensiero argomentativo, dimostrativo, sulla struttura lineare della razionalità. E quindi, e sta facendo questo proprio perché vuole andare oltre il logos, dato che per lui il logos, la razio, la ragione, sono la causa della decadenza, occorre pensare al di là del logos, andando al di là del logos. Ma per far questo occorre immaginare un nuovo tipo di scrittura, un nuovo tipo di comunicazione. Nietzsche combina modalità espressive, eterogenee, in modo da creare degli stili comunicativi, alternativi, alternativi, nuovi, eterogeni, che tronchino anch'essi con la tradizione e che propongano un nuovo modo di significare, per così dire. Bene, inizio troviamo ovviamente lo stile accademico tradizionale, quello che ricorre ai generi del trattato, del saggio, cioè della struttura argomentativa del pensiero, che mira a dimostrare la propria tesi, a confutare le tesi contrastanti con essa, ad addurre delle prove a sostegno, eccetera. E' questo il caso, per esempio, della nascita della tragedia, la sua prima opera. In seguito, però, spinto da questa esigenza di andare oltre la ragione, già in umano o troppo umano, Nietzsche abbandona quello che è il pensiero di tipologico argomentativo per uno stile che è uno stile lapidario, intuitivo, cioè che mira a colpire il lettore con messaggi di impatto molto immediato e densi di significato, polisemici, ma anche polisemantici, cioè dotati di molteplici significati possibili. E questo Nietzsche lo fa servendosi dell'aforisma, delle massime, delle sentenze. Ci sono interi libri scritti in questo modo da Nietzsche, come un punto umano o troppo umano. In seguito, ma non è che ci sia una successione di fasi, diciamo che questi stili e questi generi ce li usa in diversi momenti e in diverse opere. In seguito, dicevo, nello Zaratustra troviamo uno stile religioso e profetico. Zaratustra, così parlo, Zaratustra ha come modello il Vangelo, è una sorta di antivangelo e quindi abbiamo uno stile che è di tipo religioso, di tipo profetico. I generi sono quelli dell'allegoria, della parabola, esattamente come nel Vangelo. ma abbiamo anche l'utilizzo della poesia, non solo perché ci sono vere e proprie poesie e versi, ma perché il linguaggio si carica di connotazioni poetiche molto significative. Nelle ultime opere prevale invece uno stile molto duro, distruttivo, polemico, che gioca sulla ironia e sul filosofare a colpi di martello che affine al genere dell'invettiva, per esempio. Ebbene, come si vede il tentativo di Nietzsche è anche quello di scardinare la lingua della comunicazione filosofica per pensare ciò che fino a quel momento, almeno questo è il suo intendimento, ciò che fino a quel momento non è stato ancora pensato. E uno dei motivi per cui non è stato ancora pensato è che si è rimasti prigionieri dell'ogos, della ragione e del suo strutturarsi secondo un percorso lineare fatto di dimostrazioni logiche basate sul principio di non contraddizione. mentre per Nietzsche l'essenza dell'esistenza è intimamente contraddittoria e quindi il linguaggio filosofico basato sulla eliminazione della contraddizione non per niente Nietzsche amava Eraclito diciamo che quindi il linguaggio filosofico è incapace di cogliere l'essenza stessa dell'esistenza. diciamo adesso qualcosa molto in breve sulla lettura e quindi sull'approccio al testo niciano approccio che in qualche modo è previsto e guidato dal tipo di scrittura che Nietzsche utilizza cioè Nietzsche si costruisce o comunque predispone il lettore alla immersione nel suo testo e il modo di scrivere Nietzsche è molto coinvolgente egli è autobiografico si rivolge direttamente al lettore lo chiama in causa è diretto quindi personale è una scrittura che chiama in causa il lettore in quanto persona inoltre a questo tipo di stile si accompagna anche quello che è un significato polisemico ovvero i testi di Nietzsche per le caratteristiche che abbiamo detto prima sono polisemici possono essere interpretati secondo molteplici percorsi danno luogo a molteplici significati hanno un'ambiguità strutturale che deriva appunto dalla modalità espressiva che abbiamo detto e quindi dal rifiuto del pensiero logico e della sua univocità nasce questa polissemia della scrittura niciana come abbiamo visto questo tipo di comunicazione di scrittura e quindi la conseguentemente di lettura nascono dal tante di andare oltre quelle che sono le categorie tradizionali del linguaggio del pensiero filosofico quindi la lettura diventa dice si esprime proprio così una attività simile al ruminare al digerire più volte al ritornarci sopra è una lettura che diventa arte ermeneutica nel senso più stretto del termine cioè arte della interpretazione e non è una lettura che può essere assimilata al modello matematico una lettura come decodifica immediata del significato in quanto significato univoco ma appunto una costruzione del significato continua concludiamo con quella che forse è la cosa che più colpisce di Nietzsche il carattere esplicitamente volutamente assistematico del suo pensiero il rifiuto del sistema filosofico cioè il rifiuto di ricondurre riduzione la totalità del reale e la stessa totalità del suo pensiero un unico principio capace di organizzare il suo pensiero e organizzare la sua immagine del reale in modo univoco fanno parte di quello che è l'esplicito tentativo di Nietzsche di andare oltre la tradizionale razionalità quindi concetti come quello egeliano della realtà e del pensiero intesi come totalità processuali e razionali sono del tutto estranei a Nietzsche il pensiero lo spirito di sistema proprio per la loro caratteristica di essere basate sul logo sulla razio e di voler ridurre tutto a unità tutto a ordine appoggiato su pochi principi non sono capaci di cogliere la realtà quindi per Nietzsche il pensiero è un pensiero nomade un pensiero che è continuamente aperto potremmo usare la metafora dell'autostrada ecco il pensiero la ricerca filosofica non si sviluppano come una autostrada dritta che mira a una meta la verità la razionalità il progresso il bene la redenzione ma sono assimilabili al percorrere un territorio in modo nomade e quindi all'esplorare un territorio non seguendo una via sola diritta una linea ma seguendo percorsi plurali ritornando sui propri passi cercando nuove strade ritornando sullo stesso posto ma provenienti da un sentiero diverso questo è il pensiero nomade di Nietzsche è l'errare del pensiero di Nietzsche ed è per questo che Nietzsche è anche difficile da studiare oltre che da capire da affrontare ma anche da studiare o da spiegare a livello liceale da resto Nietzsche stesso definiva la sua comunicazione il suo modo di comunicare di pensare di procedere la sua ricerca scriva del caos chiedo scusa definiva se stesso in quanto ricercatore in quanto filosofo scriva del caos quindi chiaro che il rifiuto del sistema è totale nei frammenti postumi si legge di fido di tutti i sistemi e di tutti i sistematici e mi allontano da loro io non sono abbastanza ottuso per un sistema e tantomeno per il mio sistema e quindi sistema equivale autusità nel senso letterale del termine cioè incapacità di comprendere al di là delle proprie premesse chiuse e limitate quella che è l'essenza contraddittoria del reale ho concluso questa introduzione con un quadro di Matisse la danza che rimanda a quello che è forse il concetto che più di tutti mostra questa pulissimia questa complessità questa ambiguità ma anche questo fascino che è quello dell'eterno ritorno in questa danza circolare ballata da queste cinque figure e ritratta da Matisse bene spero di essere stato chiaro mi scuso per la lunghezza della lezione vi saluto buona danza